Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul canale, secondo contributo di giornata per dedicarlo al ritorno alla continassa di Paul Pogba. Pogs Back è il titolo del contenuto di questa sera, lo analizziamo insieme, non prima però mi raccomando di avervi invitato ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo siete, azionare la cappella di notifiche e mettere un bel like al contenuto in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostro gradimento. Siete in tanti che seguite i contenuti, siete in tantissimi a lasciare messaggi, cerco di leggervi tutti, di rispondere più o meno a tutti, vi ho invitato a partecipare al 3 grandi risposte, domani mattina torno con un 3 grandi risposte perché avete subito accettato il mio invito e mi fa molto piacere, cercherò di esaudire le vostre richieste rispondendo alle vostre domande, mi raccomando però iscrivetevi al canale perché sono tanti coloro i quali guardano i video e sono tanti anche quelli di ritorno dopo la prima visualizzazione, così almeno mi racconta il profilo di YouTube, però sono evidentemente tanti che non sono ancora iscritti perché mancano tantissimi like rispetto alle visualizzazioni. Veniamo al ritorno di Paul Pogba e grazie ovviamente per l'attenzione. Questa mattina è tornato alla continassa Paul Pogba che si è allenato durante tutta l'estate, sostanzialmente la sua vacanza l'ha trascorsa sì a Miami ma sempre senza dimenticare quello che è il suo vero grande obiettivo, quello di mettersi a disposizione della Juventus, questa volta realmente di farlo in una condizione mentale diversa da quella della passata stagione perché da sua dichiarazione la passata stagione è al di là dell'infortunio che lo ha colpito e che ne ha ovviamente inficiato il rendimento e soprattutto l'impossibilità di scendere in campo fino al mese di febbraio-marzo, salvo poi infortunarsi gravemente ancora e quindi perderlo per tutto il resto della stagione, ci sono stati problemi extracampo, li ricorderete, che lo hanno ovviamente condizionato. Adesso non ci sono più scuse, non ci sono soprattutto alla luce del fatto che ovviamente attraverso l'operato di Giovanni Manna ma anche del prossimo futuro arrivo di Cristiano Giuntoli in via ufficiale, tra domani e mercoledì è tesa l'ufficialità, l'attendiamo perché non può che essere così, è da ritenersi molto probabile, non voglio dirvi certo, ma è da ritenersi molto probabile che nei discorsi fatti con Raffaella Pimenta siano rientrati anche argomentazioni che riguardano appunto Paul Pogba, il suo rendimento ma soprattutto il suo autostipendio. Non è fatto mistero che la Juventus navighi in una situazione economico-finanziaria che va risistemata, va riaggiustata soprattutto alla luce della mancata partecipazione alla prossima Champions League, di conseguenza si guarda con grande attenzione alle possibili offerte per qualsiasi giocatore presente in rosa, non esistono incedibili e quindi da Chiesa a Vlakovic, allo stesso Bremer, ma anche a Scesni, Alessandro, Bonucci, tutti i giocatori che se la Juventus dovesse fare uscire alleggererebbe pesantemente il proprio Montengagi e rientrerebbe in quella direzione che si è posta e si è data alla luce della situazione che l'ha colpita, nella quale si è venuta a trovare. Questo non significa che siano tutti i giocatori ovviamente, o meglio, non significa che tutti i giocatori partiranno, ma significa che c'è una certa oculatezza, una certa direttiva e direzione da perseguire e vale ovviamente anche per Paul Paul Bach, che è tornato dieci giorni prima rispetto ai compagni, o meglio, otto giorni prima, perché poi gli altri si riuniranno il dieci e l'undici, si presenterà Massimiliano Allegri, si darà il via alle danze alla stagione 2023-2024, nella quale ovviamente il francese è certamente uno degli elementi maggiormente sotto pressione e sotto osservazione. Lui si è allenato durante tutta l'estate, è tornato prima perché vuole dimostrare di essere nella condizione di poter dare il proprio contributo. L'auspicio, io l'ho detto già in un precedente contributo, è che Paul Paul Bach possa tornare a essere importante, un centrocampista importante per 25-30 partite almeno nel corso di questa stagione. Sarebbe già un grande risultato e credo che soltanto una certa affidabilità fisica potrà far sì che il percorso del Pogba Bis possa continuare in bianconero, perché non è da escludere, sono voci insistenti e devono essere tenute in debita considerazione quelle che possono vedere una separazione anzitempo tra la Juventus e Paul Pogba. A tal proposito chiedo a voi ovviamente un parere, lasciatemi i vostri commenti, ditemi come la pensate sul ritorno di Paul Pogba, senza partire da un preconcetto, quello che Paul Pogba è inaffidabile, perché fino ad oggi ci ha dimostrato ovviamente di avere delle carenze e di essere certamente in difetto da questo punto di vista. L'auspicio è che dopo aver superato i problemi extracampo, dopo essersi dedicato al recupero dagli infortuni avuti nel corso della passata stagione, facendo una preparazione ad hoc, partendo da zero, così come lo stesso discorso lo estendo anche a Federico Chiesa, ecco voglio capire e vedere se potrà Pogba aver recuperato una sorta di integrità fisica, quantomeno da poter essere disponibile, non dico in tutte le partite, l'ho detto, almeno in 25-30 partite della stagione dove poter fare la differenza, perché lo abbiamo visto quelle pochissime comparse già nella stagione conclusesi con il settimo posto a causa dei 10 punti di penalizzazione, Pogba quando è stato impiegato ha fatto vedere com'è in grado, attraverso la sua presenza, di influire sull'avversario e di influire positivamente anche sui compagni di squadra, cambiando volto alla Juventus, proprio perché è uno di quei giocatori che al di là degli schemi che un allenatore può avere o non avere, o meglio che un allenatore può avere, non si parla del caso di Masseniallegri, ma parlo di allenatori che vivono su movimenti specifici, provati e riprovati in allenamento, ecco Paul Pogba è quel giocatore che anche con allenatori che non vivono di questo può cambiare il volto di una squadra perché ha un'intelligenza, un talento e una qualità che non sono comuni, sono da grande giocatore, da fuoriclasse, quale lui ha saputo essere, quando è stato bene e quando sta bene, è in grado ancora di poter dire la sua. Ovviamente ho sperato tanto nel suo ritorno quando erano gli anni di Manchester, contrariamente a tanti di voi che invece l'hanno vista in maniera diametralmente opposta e ad oggi avete avuto ragione voi, chiedo però se avete pazienza di aspettare Paul Pogba, di capire se può essere quel giocatore che può farci fare quel quid lì a centrocampo, in un centrocampo che lo ribadisco senza la sua partenza o la partenza eventuale di un Locatelli, che lo dico solo per fare un nome, perché non mi risulta la volontà della Juve di liberarsi di Rovella, non mi risulta la volontà della Juve di liberarsi di Fagioli, né tanto meno di Rabiot, che ha appena rinnovato, ecco senza la partenza di un Pogba o di un Locatelli non potrà vedere l'arrivo di un Sergei Milinkovic Savice, di cui si è vociferato e si continuerà a vociferare nel corso di questa finestra di mercato. Io sono qui ad aspettare il ritorno di Paul Pogba, di aspettare e capire davvero se la sua volontà è quella di mettersi a disposizione realmente e anche eventualmente di prendere in considerazione, di comune accordo con la società, una rivisitazione del suo l'autocompendio. Ma in primis bisogna capire la sua integrità fisica, capire la sua situazione fisica, se potrà dare il suo contributo e io veramente mi auguro che così possa essere, perché un Pogba in campo aiuta tantissimo lo stesso allenatore ad avere una freccia all'arco in più, un giocatore imprevedibile, un giocatore che sia in grado veramente di risolvere le partite o di mettere nelle condizioni i propri compagni di risolvere le partite. E per lui non è un caso quello che è uscito in questi giorni, il pensiero di Massimiliano Allegri di poterlo impiegare in una zona di campo più vicina alla porta proprio per avere un centrocampista che possa portare in dote anche qualche gol, ma soprattutto possa ispirare le punte là davanti, perché la visione di gioco, la capacità di liberare il compagno che ha Paul Pogba è proprio tipica del fuoriclasse e di colui che ha visione di gioco e vedute finestre di campo che ai più invece sono sconosciute. E quindi mi incuriosisse davvero vedere questo centrocampo con Pogba che possa essere anche un vertice alto di un rombo o comunque un vertice alto alle spalle di due punte a fare un po' da trequartista, illuminare e cercare insieme ovviamente al resto della squadra dove ci sarà un direttore d'orchestra che non è Massimiliano Allegri, ma che parte da monte, da quella programmazione che prevede un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione per giuntoli per capire se questa Juventus targata 2023-2024 insieme agli innesti che arriveranno potrà essere una Juventus che potrà dire la sua in campionato e a che livello potrà dire la sua. Intanto attendo di capire come potrà dire la sua Paul Pogba e aspetto i vostri commenti per vedere se gli date ancora credito, se gli date una possibilità, se avete pazienza, oppure se per voi è un giocatore da mandare liberamente in Arabia dato che le offerte continueranno a susseguirsi e probabilmente ad arrivare per lui proprio dal fronte arabo. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto. Fino alla fine, forza Juve e vi aspetto domani mattina per il Tre Grandi Spost. Ciao!